Qualche tempo fa realizzai un video su un progetto multimediale anime creato da una sola persona intitolato Aragne Sign Over Million. Onestamente quel prodotto mi stupì molto e mi stupì anche il fatto che oltre a me non ne parlò nessun altro, almeno qui su YouTube Italia. Eppure da sempre l'animazione orientale vive anche grazie a questi esperimenti strani e in un certo senso folli e proprio per questo motivo oggi vorrei portare alla vostra attenzione un progetto molto simile, Puparia, un cortometraggio abbastanza recente ideato, concepito e prodotto da Shingo Tamagawa, cortometraggio che potete vedere tranquillamente qui su YouTube sul canale proprio di Tamagawa, il quale ha deciso di renderlo disponibile gratuitamente per chiunque. Dura giusto tre minuti e qui sotto in descrizione vi lascio il link così almeno potete capire meglio il seguito di questo video. Nonostante duri tre minuti scarsi, riassumere Puparia in poche parole non è affatto semplice. Si tratta di un'opera fortemente ispirata e concettuale, priva di una trama di fondo. Le scene principali sono solo quattro, una ragazza seduta assieme a una strana creatura magica, un uomo in casa che vede una crisalide di falena, un'altra ragazza vestita di rosso che indica qualcosa con il dito e un ragazzo molto androgino dal corpo tatuato che osserva il cielo notturno in compagnia di un animale selvaggio sotto gli occhi di una folla stupita. Ecco queste quattro sequenze viste in quest'ordine sono quelle che compongono Puparia e di fatto dal punto di vista dello storytelling sono completamente isolate le une dalle altre e non significano nulla parlando di continuità narrativa. Sono semplicemente quattro visioni, esistono solamente nell'istante in cui appaiono sullo schermo e poi svaniscono anche sintatticamente, quasi come se fossero dei sogni. In effetti tutto il cortometraggio è fortemente collegato all'idea di sogno onirico, di esperienza mistica al di fuori della realtà. Ogni momento è magico e comunica con dei colori e con delle sfumature spettacolari. Il secondo aspetto che accomuna tutte queste sequenze è la loro staticità. I movimenti sono ridotti al minimo, il più delle volte sono solo effetti di scorrimento, palpebre che sbattono o particellari ambientali e questo enfatizza ancora di più l'atmosfera mistica che aleggia in tutta l'opera. Vi faccio un esempio che potete capire bene solo se avete visto il corto. A mente fredda dopo la visione probabilmente vi sarete chiesti chi sono queste persone, cosa stanno facendo, cosa le lega l'una all'altra. Ovviamente non c'è nessun elemento che fornisce delle risposte a queste domande, tuttavia durante la visione io, come credo anche molti di voi, non mi sono posto domande. Ho semplicemente guardato con interesse queste soluzioni visive che comparivano sul monitor, rapito dal loro fascino e rapito dalla loro suggestione, esattamente come un sogno ad occhi aperti, all'interno di un regno incantato e magico, nei cui meandri un minuto può durare persino un'ora. Anche la musica è zeccata, purtroppo non posso farvela sentire in quanto protetta da copyright, ma è una melodia ritmica, composta da tintinni ipnotici, proprio il tipo di musica che si potrebbe ascoltare in un mondo etereo e intangibile, fatto di sogni e di fiabe. Un po' di tempo dopo la pubblicazione del corto, su YouTube è uscito anche un documentario sul making of di Puparia. Per quei tre minuti, Tamagawa ha faticato tre anni, dovendo fare tutto praticamente da solo. L'artista, che fin da ragazzo desiderava lavorare nel settore dell'animazione, una volta coronato il suo sogno si è reso conto che quella realtà, purtroppo, non era come l'aveva immaginata. Dopo cinque lunghi anni passati a sgobbare in uno studio famoso, lo studio Sunrise, Tamagawa si convince che l'animazione moderna è diventata effimera, inconsistente, qualcosa che si consuma subito, con un semplice click del mouse. Così nel 2015 si dimette, e per quasi due anni smette completamente di disegnare. Raggruppa tutti i quaderni con i suoi schizzi e con le sue bozze e li mette via negli scatoloni, facendo ordine tra i suoi pensieri e concentrandosi solo sulla lettura. E pian piano, grazie probabilmente a questo periodo di detox, in lui si riaccende la passione, quindi inizia a convogliare tutti i suoi sforzi in un progetto suo, un progetto personalissimo, Puparia. Puparia deriva da Pupa, termine con cui si indica un particolare stadio post-embrionale degli insetti, appunto la crisalide, parlando di falene e di farfalle. Senza dubbio la scelta del nome è estremamente intima per Tamagawa, la crisalide indica qualcosa che sta cambiando, che sta mutando, qualcosa che lascia una forma per assumerne un'altra, nuova e diversa, esattamente come il suo concetto di animazione. L'artista, spinto in parte dal suo risentimento e in parte dalla sua riscoperta passione, decide di mandare un messaggio di cambiamento e di evoluzione tramite la via più difficile, cioè quella dell'ermetismo e dell'astrattismo, una via che negli anni post-2010 in pochi percorrono ancora. Sempre stando alle sue dichiarazioni, l'obiettivo di Puparia è raccontare la bellezza della tranquillità e della calma attraverso la musica, il silenzio, i colori e i disegni, ignorando il linguaggio del dinamismo e della frenesia e utilizzando invece quello della staticità. All'inizio, Tamagawa considera l'idea di chiedere aiuto a qualcuno, di mostrare in giro il suo progetto nella speranza di creare un prodotto magari di 8 o di 10 minuti, ma in poco tempo abbandona questi propositi, dando per scontato che tutti si sarebbero annoiati a morte, a lavorare su un anime muto in cui non succede nulla e senza un briciolo di trama orizzontale. Così prosegue in solitaria, consapevole di non avere catene a limitarlo, ma di dover fare il lavoro di un intero team. E finalmente nel 2020 Puparia è completo, è esattamente come lo vuole lui, con i colori che vuole lui, con la musica che vuole lui e con lo stile che vuole lui, un incredibile viaggio di 3 minuti sulle ali di un'animazione unica, molto ricercata ed estetica, ma al contempo semplice e basilare. Sinceramente io adoro queste storie, non conoscevo Shingo Tamagawa, non avevo idea di chi fosse e ignoravo a cosa avesse lavorato, ma dopo aver visto quei 3 minuti di corto e dopo aver ascoltato le sue considerazioni in merito all'animazione, al processo creativo e alla volontà di trasmettere emozioni mai provate prima, posso tranquillamente affermare di non aver sprecato il mio tempo. Sì, Puparia non racconta nulla di concreto, è vero, ma è un'opera carica di emozioni, emozioni che storie ben più lunghe, ben più complesse e ben più articolate non avranno mai, perché dietro c'è una persona che crede davvero nell'animazione, una persona che pur riconoscendo tutti i difetti e tutti i problemi che gravitano attorno a quel mondo, comunque non si è scoraggiata, anzi, ha inseguito la sua passione, imprimendoci dentro tutti i suoi sentimenti. E voi invece, che ne pensate? Vi piacciono questi esperimenti un po' strani e fuori dagli schemi? O siete più per le storie classiche? Fatemelo sapere giù nei commenti, così ne discutiamo assieme, io vi ringrazio per l'attenzione e vi esorto a dare un'occhiata al corto, in modo da supportare anche questo tipo di animazione, poi statemi bene mi raccomando e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Grazie!